Io sono un casino con le interviste Come? Sono un casino con le interviste Eh figurati io che sono un casino Tu sei un casino con le interviste Pensa a Daniele Bah Daniele Davide volevo dire Tu sei un casino con le interviste Perché? Perché mi intripo di brutto Perché? Perché sì Perché quando mi fanno le domande Ma tanto io c'ho il microfono Ma in realtà Chi ti fa l'intervista È Federico Ah ecco E quindi Ma lei che lo mandi in onda Povero te Certo che Ma questo Guarda Guarda Scusi Signor Bar Lui è il mitico Bar Bato Bar Eccolo qua Vieni qua Allora Bar Bato Tanto c'è Federico che presenta Cosa stiamo facendo oggi qui a Nuoro Me lo sto chiedendo No ma devi essere Dai Allora Stefania È arrivata dall'Ogliastra Sì È arrivata dall'Ogliastra Da dove si è arrivata Stefania? Da Trieri Che è vicino? Tortolì Quanti chilometri esatti? Boh Da Santa Maria Navarrese Tortolì? I chilometri non li so Vabbè non sei insomma geograficamente Mi sei preparata Un'oretta di macchina dai No da là qui però da Nuoro Ah sì Ok Siamo qui per che cosa Daniele? Per registrare il nuovo brano di Paul e di Stefania Saluta Aspetta che saluta Bobo Reddu si chiama Bobo Reddu È svizzero È Gigi Sanna No Insomma Bobo Reddu è un piccolino Allora questo brano che fa parte di quest'album Questo brano che fa parte dell'album nuovo di Paul De Santi Un brano preso dal disco No 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 ascolta ascolta facciamo cose Prendiamo di cose serie Stefania Tortolì Nuoro Sassari C'è dal centro al nord della Sardegna qua eh Sì La Sardegna non è un'isola È il mondo Allora io ridarei la linea a Federico E così continuiamo l'intervista anche con Stefania eh Perfetto Ciao Ciao Grazie Ciao 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 Sono molto felice Anche io Sono felicissimissimo Vorrei che questo momento non finisse mai Io invece vorrei che finisse E su un tanto hanno cambiato tutti Dunque non fa nulla Se volevamo continuare qui non c'è problema eh Tanto questo va tutto su zapping